Dimmi tu, eh? Vai. Allora, innanzitutto stiamo parlando con... Raffaele Signorini di Adacto, che è un'agenzia, forse già noi ci conosciamo, però è un'agenzia che fa comunicazione a Viene e dalla Toscana, come si sente. Appunto, benissimo. Il mio tipico accento e poi ormai anche buone radici milanesi. Perfetto, allora quest'anno il tema che trattiamo è quello dell'informazione e trattiamo e prendiamo in considerazione tre aspetti dell'informazione, cioè un'informazione che deve essere fruibile e versatile, quindi da adattare a tutti i media, un'informazione che deve essere il più sintetico possibile per non annoiare il consumatore e colpirla efficacemente, un'informazione che deve essere aperta col consumatore che partecipa praticamente diffondendo o giudicando positivamente o meno l'informazione che riceve. Nel primo caso volevamo capire tra parola e immagine che sta andando sempre più ad essere un simbolo quale secondo te ha maggiore potere comunicativo a livello di informazioni? A livello informativo, la parola, il logos, che pertiene sempre, fin dall'inizio, il nostro modo di evolversi, di costruire la civiltà, ha una forte valenza informativa. Ma se parliamo di sintesi, di impatto, di velocità, di versatilità, l'immagine che diventa sempre più icona e simbolo, come dicevi tu, ha sempre una potenza maggiore perché sul testo deve arrivarci più immediata sull'informazione scritta e passa attraverso il linguaggio che si è parlato scritto, ma attraverso la parola. L'immagine è qualcosa di immediato e di trasversale, nel villaggio globale, è qualcosa che poi le interpretano e comprendono poi ti implementi a seconda utilizza, a seconda dei media che lo vogliono utilizzare, ovviamente. Per forza devi avere un adattamento alla sua circostanza, poi sono anche, come dire adesso, una discussione a livello generale che andrebbero sempre circostanziate sulle obiettive, sul mezzo, sul progetto, su quel che vuoi, ma se parliamo a livello generale, l'impatto di un'immagine è sempre molto forte perché va più immediatamente a incidere sulle sue parti emotive e poi a trasversare, non passa attraverso la politica linguistica, poi anche una differenza tra paese a paese, di riedere, una sensazione, di realizzazione ti permette di parlare veramente a tutti in modo rapido e sintetico, quindi questo è sicuramente un potere di comunicazione molto forte. e quindi nella sintesi di un messaggio, su che cose secondo te si può far leva, in modo tale che i prodotti che si fanno sempre più uguali e con performance simili, come riusciamo a differenziare, se dobbiamo arrivare a una sintesi di quella che è l'informazione che diamo al consumatore per non annoiarlo? La sintesi visiva è prevalente, dopo l'informo, la sintesi visiva, che è anche composizione, no? non poi di quel che vedi insieme, di simboli, di immagini, di visual, e poi anche di contenuto informativo, ma quello che esce fuori, la tua ricomposizione, indipendentemente da qual è poi il mezzo che tu vai a utilizzare, deve avere comunque un impatto che passa attraverso la vista. Quindi arriva prima in quella maniera lì, poi dopo ci saranno le modalità di condivisione, approfondimento, ridistribuzione, insomma, e ti consenti però in questa maniera di arrivare molto diretto, e dovunque l'utente sia, insomma, con questa rapidità, poiché siamo sempre più tutti in mobilità, ma quindi l'essere molto molto rapidi diventa un senso molto importante. Dà efficacia al messaggio. Finiamo con il discorso dell'apertura, per cui il consumatore che partecipa, come un'agenzia giudica il suo modo di porsi di fronte alle informazioni, cioè teme il giudizio del consumatore, il consumatore sta diventando il terzo attore, cioè agenzia, azienda e consumatore. Secondo te veramente partecipa alla progettazione di una nuova comunicazione e informazione? Sicuramente partecipa nella sua vita, nella comunicazione molto di più, cioè la fa sua, la rielabora a modo suo, la di sempre stato, adesso ha solo una capacità di incidere su questo, molto maggiore, poi è sempre stato così, che poi ognuno la può sempre rivistutare e interpretata nella propria maniera, però adesso ci sono strumenti molto più forti, che consentono l'utente di diventare lui molto più protagonista. Tuttavia la partecipazione è sempre un aspetto più, la progettazione è sempre un aspetto più critico e più delicato, per cui poi le persone sono tante, sono molte, sono diverse. E non tutti hanno neanche poi la voglia o la capacità di arrivare, per cui poi nei grandi numeri, i gruppi più attivi sono sempre delle nicchie, delle numeranze. Certo sono una risorsa preziosa, questa sì, riuscire ad avere anche questa parte, questo supporto, è come disporre di intelligenza esterna. Perfetto, grazie mille. Grazie. A te.